C'è tutto lo spirito forte e travolgente di Marco Pannella nel suo primo e ultimo libro uscito postumo Una libertà felice Allora Matteo Angeli, Laura Hart, voi avete vissuto con Pannella gli ultimi mesi della sua vita Quando Pannella ha deciso di fare una cosa che non ha mai fatto in vita, scrivere un libro, questo, come mai? Probabilmente perché sapeva che il suo momento era giunto E quando gli è stato proposto questo progetto ha pensato che fosse un regalo che faceva a noi in primis ma a tutti Laura, in quella manzarda a un certo punto Pannella ha cominciato a ricevere molte persone Presidente Matteo Renzi, Presidente Berlusconi, Vasco Rossi e a tutti alla fine diceva una frase a subito Faceva proprio piacere vedere tutti perché hai citato alcuni nomi di VIP a cui gli hanno fatto molto piacere vederli Ma gli faceva piacere sentire al telefono il militante che chiamava dalla Basilicata che poi veniva a trovarlo Pannella è morto non ricco, non dico povero ma insomma non ricco Spesso lui la mattina andava in banca, prendeva dei soldi e li distribuiva a chi ne aveva bisogno A medicanti o a chi lo avvicinava per chiedergli un contributo, un'offerta Una delle frasi che più ci sentivamo ripetere in quelle settimane era La povertà è una forza e una ricchezza Che era di pari pasto poi con anche il papato di Francesco Pochi mesi dopo la morte di Pannella voi due vi siete sposati Ecco cosa... me la fai vedere anche tu la fede Cosa vi ha lasciato Mi ricordo una cosa che hai detto proprio a te, alle telecamere di TG5 il giorno del suo compleanno Che diceva ai compagni, a tutti quelli che portano avanti le lotte radicali Non disperatevi perché storicamente abbiamo di già vinto Non mollare perché storicamente abbiamo di già vinto Ora l'economia mel...